vediamo buono buongiorno dal giappone buongiorno con cosa facciamo colazione stamattina che cosa sono quindi mochi dentro c'è marmellata di fagioli e fragola un dolce assolutamente molto tradizionale che vuol dire letteralmente ichigo quindi fragola e tanta fortuna dai fu vuol dire grande fortuna poi questo è ma ma me quindi fagioli è un dolce classico quindi andiamo andiamo questo è il nostro preferito questo è toksana quello proprio specialista specialità chi che anche in te quindi quindi questo è più caro se quindi lo mangia mia mia che poi che comprato poi facciamo vedere normale a uno per uno ne comprato ora qua come fai a mangiare una roba del genere scusa non ci vuole non ci vuole una forchetta è meglio quella forchetta ok la vedi si vede la marmellata di fagioli buono più buono di sempre normale cos'è questo bianco che è sopra che così spieghiamo e questo qui che cos'è per non attaccare tipo tipo farina no tipo una farina ecco vediamo mi va fai vedere guarda qua che bello e come mai questo qui è più zaitako più senso di quello nostro a a a a a a così devo capire deve capire la mamma io lo mangia tutto però eh vediamo buono forse più più grande la fragola si può darsi si diceva che fragola ama o che vuol dire tipo di fragola questo ichigo non è detto di dove è però è sempre in giappone è un ichigo che viene dalla cina quindi più piccolo perché non è arrivato e dato il morsone non è arrivato eccolo qua piccolo piccolo va bene ma io un intero non lo mangio però buono ti è piaciuto quindi no uno intero non lo mangio ma mangiate voi sì sì poi ti dico quale è il migliore anche un po di raffreddore vediamo un po che comprato mio che è una bambola strano che la mamma ti ha comprato una bambola di solito non ti compra mai niente la mamma non si sta cosa l'ha fatta vedere prima quando la compri tu non sai quello che c'è dentro ok come si chiama questa cimari ciao come si chiamano questi si merito di me a b c d e ok va bene sono famose va bene mi riprendi a me adesso questa è quella normale no per la mani si 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 già buono buono si dovrei comprare la ginza quella accanto al mani no come si chiama quella accanto al mani che è famoso anche buono questa è tamaya quello non ti chiamano vicino perché c'è una poco famoso accanto al catamani che è accanto al mani a mani ma non ti dico che forse buono quell'altro che c'è la fragola più matura forse posso finire che se c'è un momento dell'anno particolare in cui si mangia oppure no primavera no primavera perché stagione di frago tra l'altro qui ci sono anche pezzi di fagiolo questo qui no questo è anche davvero si ma metà no ma è quello di bia c'era anche quello di bia questo negozio tamaya è a specialità e mi bevo anche un goccio di te in questa tazza del del te mons dai dai che ce la fai? singeki no kyōji brava mi va come si chiama questo? 自由 no tibasà il gruppo come si chiama? come si chiama allora? chiosaheida il gruppo di ricerca mamma non sapeva niente di queste qua no? vuoi il tuo personaggio preferito? mikasa stiamo parlando dell'attacco dei giganti ci vediamo al prossimo video da Giappone ciao 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 ciao